Questo non ci passa, il resto di Roma è il resto. E noi siamo qui per cominciare. Eccoci. Buongiorno a tutti, benvenuti. Io sono Marco Simoni, io sono un economista e sono pro tempo del presidente di EURESPIA, che è un'azienda pubblica importante di questo quartiere. Grazie ai suoi intendenti dell'archivi di Stato per ospitare questo dialogo. E vi devo raccontare, benvenuti ragazzi e anche professori, naturalmente, delle scuole che siete qui oggi. E sono qui con Sabino Cassiese. Allora, io mi auguro che in classe, prima di questo incontro, abbiate fatto qualche discussione. Vi avrebbero un po' raccontato chi è Sabino Cassiese. Che è una cosa difficile da riassumere, perché la pagina di Wikipedia è molto lunga. e per darvi un senso, uno dei nostri precedenti incontri mi raccontò di quando Sabino Cassiese era un giovane assistente di Enrico Mattei. E l'ho uscito semplicemente perché la settimana scorsa il presidente del Consiglio... Ah, stavo parlando, però la voce si sentiva. Si sentiva bene. Forse... Forse... Forse il po'. Il presidente del Consiglio, Giorgio Meloni, ha annunciato un piano Mattei dal nome appunto della stessa persona che è stato il fondatore dell'ENI, che è la compagnia forse più importante del nostro paese da tanti punti di vista. E che poi è appunto una biografia fatta di... Soprattutto di insegnamento universitario, di studi, fino ad altissimi incarichi di responsabilità alla Corte Costituzionale al governo del paese. Nell'introdurlo però, a parte la... e nel lasciargli la parola per un'introduzione all'incontro di oggi, a parte la biografia, il curriculum, che sono sempre delle cose molto fredde, poi appunto avendo avuto responsabilità di direzione di enti, anche io, ho compreso quello di adesso, mi è capitato molto spesso di notare una grande differenza tra il curriculum e la persona che si incontra. Vi racconto quando l'ho conosciuto. L'ho conosciuto perché un giorno io, nel lavoro precedente, stavo costruendo un nuovo istituto di ricerca, cosa che poi ho fatto a Milano negli scorsi cinque anni, e che era una cosa un po' complicata perché non c'era niente, c'ero solo io che facevo il presidente dell'istituto, ma era un po' il presidente di me stesso, perché non c'era ancora nulla, bisognava costruire i muri, bisognava assumere gli scienziati, bisognava trovarli gli scienziati, i microscopi, eccetera, eccetera. Si chiama Human Technopole, se qualcuno è curioso. E a un certo punto avevamo un problema giuridico interno, che ha a che fare con quei problemi giuridici di relazione tra le aziende che lavorano per lo Stato, che sono pagate dallo Stato, e lo Stato stesso. È un campo che si chiama il diritto amministrativo, estremamente specialistico. E io non riuscivo a risolvere questo problema, gli avvocati che mi aiutavano non riuscivano a risolverlo, e avevamo bisogno di un giurista che ci aiutasse a risolverlo, e io ho pensato, l'unica persona che ci può aiutare è Sabino Cassese, perché oltre a essere il più importante su questi temi qui, è anche il più ascoltato, quindi qualunque altro giudice o giurista o esperto che leggesse quello che dice Sabino Cassese non potrebbe che essere d'accordo, dato che in media sarà stato un suo allievo. Allora io, che ero un amico di un allieva del professore, la chiamai e gli dissi non è che può intercedere, perché mi immaginavo una cosa non banale riuscire a farsi aiutare su un progetto pubblico, per quanto importante, iniziale, poco conosciuto da lui. Lei mi diede le sue email, io gli scriso in email, ovviamente molto lunga, formale, eccetera, e dopo 5 minuti mi suona il telefonino, la risposta, dice certo professore venga a trovarmi, ne parliamo quando vuole, anzi parliamoci per telefono così facciamo prima. Ecco, vi racconto questo episodio, primo perché questa fu una reazione non comune, io ho avuto a che fare per lavoro, ho lavorato per il governo, anch'io per due presidenti del Consiglio e non sempre alla fama e all'autorevolezza si accompagna una comprensione dell'importanza sostanziale dei problemi che riguardano i momenti di costruzione e i momenti di sviluppo di ciò che è di tutti, c'è del bene pubblico e ritengo, diciamo, questa piccola caratteristica che forse è marginale, uno dei tratti più distintivi di Sabino Cassese che mi onora moltissimo fare questo dialogo con lui. Il servizio pubblico ha e servire lo Stato è un concetto molto ampio che può essere di grande ispirazione per una vita e per una carriera in un momento come questo in cui voi siete un po' un vivio, dovrete finire il vostro anno scolastico, andare verso nuove metri, verso nuove sfide come si dice oggi con un linguaggio un po' di plastica, diciamo, verso nuovi impegni e penso che una riflessione come quella che proveremo a fare oggi possa essere utile per i passi successivi che dovete fare anche cercando nelle pieghe delle storie delle persone le ragioni che vi dicono qualcosa a voi e che vi ispirano e vi ispirino a compiere scelte più interessanti magari rispetto ad altre. E quindi detto questo, la mia breve introduzione è finita, lascio la parola al professor Cassese e poi potremo continuare il dialogo. Grazie. Grazie. Grazie Simone. Sul giornale, sul Corriere della Sera di ieri, un giornalista ha raccontato una storia che pare si racconti a Brescia. È la storia dei colloqui alla ricerca di un lavoro di giovani con i datori di lavoro, cioè con gli imprenditori. Pare che questo colloquio che finiva tradizionalmente con gli imprenditori o i datori di lavoro che dicevano ai giovani che cercavano un lavoro le faremo sapere. Pare che da parecchio tempo ormai si concluda con l'affermazione da parte di chi cerca il lavoro vi farò sapere. Questo colloquio, diciamo, questa storia è rappresentativa di un momento di passaggio del mercato del lavoro che è segnalato anche da un altro aspetto. 1.600.000 italiani hanno abbandonato volontariamente il lavoro che avevano nei soli primi nove mesi del 2022. E tutto questo è confermato da un altro articolo di un giornale di ieri sempre che era intitolato SOS Università in Italia i laureati sono troppo pochi e si davano delle statistiche. Noi abbiamo la metà dei laureati rispetto alla popolazione naturalmente che c'è la Corea e il Giappone. E siamo a livello di paesi dell'Africa o del Sud America quanto a numero di laureati, troppo pochi. Pensate che, per citare un altro sintomo significativo di una modificazione del mercato del lavoro, nella maggior parte dei concorsi che si stanno svolgendo oggi per la pubblica amministrazione, vi sono numerosi posti che non vengono coperti oppure che vengono coperti da persone che vincono il concorso ma che poi rinunciano a quel concorso perché hanno vinto un altro concorso. E tutto questo mostra ancora una volta il paradosso di un mercato del lavoro dove nello stesso tempo c'è mancanza di lavoro e scarsità di personale. Cioè ci sono imprese, enti, società che cercano persone e nello stesso tempo ci sono giovani, laureati, non laureati che cercano un posto dove lavorare. Tutto questo che cosa mostra? Mostra non solo che sta cambiando la geografia del lavoro. Ho adoperato questa espressione, la geografia del lavoro, perché è il titolo molto bello di un libro che vi consiglio di leggere pubblicato qualche anno fa in traduzione italiana, scritto da un italiano che però insegna Berkeley negli Stati Uniti e che mostra questo cambiamento invece negli Stati Uniti, non in Italia. Cambiamento della geografia del lavoro a cui non corrisponde un cambiamento della formazione delle persone. Quindi un'università è una scuola che produce persone che non hanno la specializzazione che è richiesta dal mondo del lavoro. Pensate soltanto che secondo dei calcoli del Formez, che è una fondazione che gestisce per conto dello Stato la maggior parte dei concorsi attuali, secondo il Formez, nei concorsi che sono stati banditi negli ultimi tempi, c'è un 40% di persone con un profilo giuridico, con una formazione di diritto, solo lo 0,8% con una formazione scientifica e solo lo 0,2% con una formazione informatica. Il che vuol dire che c'è una, come dire, quello che poi adesso vi dirò, un mismatch, cioè una non corrispondenza, un disallineamento tra questi due mondi, il mondo della formazione, il mondo del lavoro. Il mondo del lavoro chiede professionalità che il mondo della scuola non produce, mentre la scuola produce professionalità che il mondo del lavoro assorbe in maniera, diciamo, sempre decrescente. E tutto questo anche legato ad un altro fenomeno che non riguarda il rapporto tra mondo del lavoro in senso stretto e mondo della formazione che è la denatalità. Per darvi un'idea, l'Italia aveva qualche anno fa 60 milioni di abitanti, siamo ora 59 milioni, quando eravamo a 60 milioni avevano lo stesso numero di abitanti il Regno Unito e la Francia, il Regno Unito ha oggi 67 milioni di abitanti e la Francia ne ha quasi 68, il che vuol dire che noi andiamo giù in termini di numero di abitanti e gli altri paesi, partendo dallo stesso punto, in termini numerici, stanno andando su. Per continuare con questa piccola carrellata iniziale del mio discorso, vi ricorderò che ieri, ancora una volta, solo ieri, due giornali italiani davano notizia di una grossa ricerca fatta dalla Banca d'Italia, da quattro studiosi del servizio di studi economici della Banca d'Italia, secondo la quale ricerca servono in Italia 375 mila lavoratori in più fino al 2026 per realizzare quella cosa che va sotto una sigla PNRR, non so se l'avete trovata da qualche parte, che vuol dire Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che è in larga misura finanziato dall'Unione Europea. E voglio terminare questa carrellata iniziale, per poi passare a qualcosa di più concreto con qualche consiglio, consigliandovi la lettura, se avete voglia, di due libri. Uno scritto da un professore di informatica del Politecnico di Milano, è un libro, l'autore si chiama Alfonso Fuggetta, un bel lavoro, ridare significato e valore a ciò che facciamo. È un libro pubblicato dalla casa editrice Egea, che è la casa editrice della Bocconi di Milano, cioè una delle principali università italiane. È un libro interessante perché mette in luce il paradosso di cui vi sto parlando della scarsità di personale e della mancanza di lavoro, che è un vero paradosso, cioè una vera contraddizione, perché normalmente se c'è mancanza di lavoro, se c'è l'uno non c'è l'altro. E poi vi voglio dire che ieri è uscito un rapporto ufficiale dell'Istituto Nazionale di Analisi delle Politiche Pubbliche, che è un ente pubblico in Italia che si interessa di questi problemi, intitolato Lavoro e Formazione, l'Italia di fronte alle sfide del futuro, in cui vengono illustrati le seguenti tendenze del mercato del lavoro in Italia. Primo, una ibridazione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo, cioè non esistono più due figure separate, lavoro autonomo, l'avvocato per esempio, il notaio, e lavoro subordinato per esempio l'insegnante o il dipendente di una pubblica amministrazione, da un funzionario pubblico. Ci sono sempre più formule miste, diciamo, dell'uno e dell'altro. Secondo, viene sottolineato quello che vi ho già detto, mismatch, cioè disallineamento tra domanda e offerta di lavoro. C'è nello stesso tempo una crescente domanda di lavoro e una crescente offerta di lavoro non soddisfatta dalla domanda, il che vuol dire che c'è un difetto di allineamento tra formazione e lavoro. E poi c'è una crisi della, viene chiamata così in termini un po' accademici, quindi dovete tenere conto del tipo di espressione. La crisi della transizione lineare dall'istruzione al lavoro e della necessità di quella che loro chiamano upskilling e re-skilling. Provo a spiegare che cosa vogliono dire queste cose misteriose. La crisi della transizione lineare dall'istruzione al lavoro è semplicemente questa. Una volta si diceva studio ingegneria, faccio l'ingegnere. Oggi spesso si dice faccio ingegneria e applicherò, farò l'economista. Quindi non c'è un allineamento perfetto tra ciò che si studia e ciò che si fa dopo. E poi seconda cosa, ma su questo ritornerò più avanti, la vita delle professioni una volta era più lunga della vita delle persone. Oggi la vita delle professioni è più breve della vita delle persone. Che cosa comporta questo? Che uno può trovarsi a 50 anni che la sua professione si è esaurita mentre si è sviluppata un'altra professione, il che richiede o upskilling o re-skilling. Io penso che un po' di inglese voi lo conosciate, no? Vuol dire che bisogna o, come dire, migliorare la propria professionalità e adeguarsi a questo, oppure addirittura modificare la propria professionalità. Tanto per darvi un'idea, la maggior parte dei miei ex studenti tedeschi, per esempio, non pensa che la sua vita debba essere scandita secondo i moduli tradizionali, fino a 25 anni circa studio, da 25 a 65 lavoro, poi pensione. Quindi tre fasi della vita, studio, lavoro e poi ricevo la pensione senza lavoro. In realtà la maggior parte dei miei allievi tedeschi, o che vi posso dire scandinavi, pensano che la vita oggi possa essere costruita, lo dico scherzosamente ai miei studenti, come club sandwich. Avete mai parlato, mangiato un club sandwich, no? E quindi che uno possa finire, che vi posso dire, la scuola superiore, passare due anni, lavorare per due anni, iscriversi all'università, lavorare per cinque anni, iscriversi a un master o fare un perfezionamento in una scuola e così via. E cioè quindi che la vita delle persone non sia più scandita, come è stata anche la mia vita, diciamo in tre fasi, ma che sia scandita in fasi che si susseguono e si sovrappongono. Fatta questa specie di introduzione, io passo a due argomenti che vorrei toccare che sono, primo, la scelta della facoltà, se uno vuole fare l'università, come è consigliabile, visto quello che ho detto, che l'Italia è un paese che ha meno della metà dei laureati rispetto alla popolazione della Corea e del Giappone, capito? Non degli Stati Uniti, ma della Corea e del Giappone. E poi, diciamo, il capitolo delle opzioni lavorative. Lo faccio in termini generali, chi vi parla è un professore di diritto, io insegno da 60 anni, sono teoricamente in pensione, ma in realtà insegno anche più di prima di quando era in ruolo, e insegno da 60 anni di diritto, però vi parlo in termini generali. Il problema della scelta di una facoltà si articola in cinque punti. Primo, il primo problema è la difficoltà della scelta. Immaginate che voi usciate da un liceo oppure da un istituto tecnico, dovete scegliere, ma gli elementi della vostra scelta non vi sono presentati dalla scuola, perché non avete studiato medicina, perché probabilmente non avete studiato informatica. Se uscite da un liceo non sapete nulla di che cos'è il diritto. Penso che quasi nessuno sappia che cos'è la scienza politica, per esempio, la politologia. Quindi c'è un problema che chi si esce dalle scuole superiori deve affrontare e che deve fare una scelta tra cose che sa e tra cose che non sa. Come si fa a scegliere tra una cosa che si sa e una cosa che non si sa? Io ho un consiglio che vi darei, ognuno di questi problemi sarà seguito da un mio consiglio, il consiglio che vi darei è i programmi delle facoltà si trovano tutti online e basta prenderne uno che vi posso dire della Sapienza di Roma, della LUIS o della Bocconi o dell'Università di Trento e andare a vedere dentro che cosa c'è, va bene? Quindi non accontentarsi di mi piace o non mi piace la medicina, ma andare a vedere com'è articolato il programma di medicina, va bene? E sapere quali specifiche materie bisogna studiare e quali specifici esami naturalmente bisogna superare. Questo è il primo problema e questo è il mio primo consiglio per la soluzione di questo problema. Un secondo problema è quello di quali sono i criteri di scelta e i criteri di scelta sono molti. Nella vita di ogni giorno spesso si sceglie perché i genitori fanno una certa cosa e ci si vuole mettere sulla stessa strada. Qualche volta si sceglie perché i genitori fanno un certo mestiere, il notaio, e si vuole evitare assolutamente di fare lo stesso mestiere del proprio padre o della propria madre. Ma nella maggior parte dei casi si sceglie in base alle proprie inclinazioni. Una volta si diceva c'ho il bernoccolo della matematica e quindi uno sceglie una materia piuttosto scientifica che è una materia umanistica. Si può scegliere anche base a un terzo criterio che è più razionale. Scelgo sulla base del posto dove voglio andare, cioè del lavoro che voglio fare dopo. Quindi il percorso che voglio fare, voglio andare a Napoli, se voglio andare a Napoli il percorso che bisogna fare è via Formia. Certo non è via Siena perché di solito se uno va verso Siena va verso il nord e non va verso il sud se parte da Roma. Poi c'è un terzo modo che nel dubbio può essere adoperato di scegliere per esclusione. Non mi piace questo, non mi piace quello, non mi piace quell'altro, non mi piace quell'altro, quindi faccio quello che resta. E l'ultimo è quello di scegliere adoperando più di uno di questi criteri, la professione del padre o la professione della madre più le proprie inclinazioni o le proprie aspirazioni di lavoro e così via. Però nel fare questo ancora una volta il mio consiglio sarebbe non vi fermate a quello che c'è scritto fuori dalla scatola. Le facoltà sono dei grandi scatoloni. Vi faccio un esempio di una facoltà nella quale io ho insegnato, la facoltà di scienze politiche. Voi pensate che nella facoltà di scienze politiche si studia le scienze politiche? No, si studia le scienze politiche ma si studia anche il diritto, si studia anche l'economia e si studia anche la storia. Quindi non vi fermate mai a quello che c'è all'esterno, che c'è scritto all'esterno il nome della facoltà, bisogna leggere l'elenco delle materie e se possibile andare a vedere qual è il libro che i professori consigliano. Andare a sfogliare l'indice del manuale perché solo entrando così all'interno della materia si riesce a capire qualcosa. Il terzo problema è quello che c'è non dentro alla scatola ma dentro a quelle scatole che si chiamano ciascuna disciplina. Ora una volta esistevano dei confini generalmente riconosciuti che nel sviluppo del positivismo nel corso dell'ottocento venivano chiamate discipline, va bene? Queste discipline erano chiuse in sé. Vi faccio un esempio. A un giurista si diceva tu devi studiare diritto con un metodo giuridico. È ancora vero questo? Prendete il nome del giurista più famoso del mondo che è un italiano di nascita anche se oramai è cittadino americano, si chiama Guido Calabresi. Guido Calabresi ha studiato economia e poi è diventato un grande giurista, è stato professore di diritto a Yale, è stato preside della facoltà di Yale, è stato nominato giudice di una corte federale, ha ora 90 anni. Voi capite bene, a lui erano stati offerti alla cattedra di economia all'università di Oxford e all'università di Yale. Lui ha detto no io voglio studiare diritto e ha studiato diritto e ha insegnato diritto e ha scritto dei libri molto importanti, la maggior parte dei quali sono stati tradotti in italiano. Se voi andate a parlare con un medico o con uno studioso di scienze vi diranno che la frontiera più avanzata delle loro discipline si chiama scienze della vita e le scienze della vita non stanno nella medicina e non stanno nella facoltà di scienze ma stanno in mezzo tra la facoltà di scienze e la facoltà di medicina e le scienze della vita a loro volta oggi andate a vedere scienze della vita in italiano in inglese su google vedrete che ci sono ben 30 branche della scienza della vita, un ambito disciplinare che fino a qualche anno fa non aveva nessun cultore e tantomeno nessun professore. e che ancora adesso non hanno un insegnamento perché ce n'hanno 30 di insegnamento ma è lì che si sviluppa principalmente. Quindi se dovessi dirla in inglese diciamo imparate ad essere dei trespasser, sapete che cosa vuol dire trespass? Trespasser è quello che entra nella proprietà di un'altra persona va bene, esce dal proprio settore, dalla propria casa e entra nella casa di un'altra persona. Nella maggior parte delle discipline in questo periodo ci sono questi fenomeni di trespassing che vi posso dire? Se voi andate all'università di Chicago o all'università di Harvard uno dei più importanti insegnamenti della facoltà giuridica è l'insegnamento di economic analysis of law, analisi economica del diritto, che è una cosa come dire che combina l'analisi economica con l'analisi giuridica. E questo voi lo potete capire ancora una volta se seguite il mio consiglio di andare a vedere all'interno delle diverse discipline che cosa si sviluppa e che cosa si sviluppa diciamo anche nell'approccio. Quando io ho cominciato a studiare diritto i giuristi si dividevano in due categorie, gli esegeti e i dogmatici. Gli esegeti erano quelli che studiavano la parola della legge, l'analisi esegetica della norma scritta. I dogmatici erano quelli che coltivavano i grandi principi da cui facevano discendere per deduzione le applicazioni delle norme. Ma questo non è più vero oggi perché nella cultura giuridica si distingue tra law in books e law in action. Quello che si studia la costituzione ci sono persone che studiano le parole della costituzione e ci sono persone che studiano la living constitution, cioè la costituzione vivente, come applicata, qual è la pratica applicativa di quelle norme. Non le norme come sono scritte nella legge, nella costituzione in questo caso, bensì le norme come vengono applicate. Il quarto problema è questo, ma quella scelta che voi farete o vorreste fare è una scelta per la vita o è una scelta per un certo periodo di tempo? E qui questa è una cosa fondamentale perché quando io ho cominciato a studiare e sono andato all'università, ha fatto una scelta, io l'ho fatta come un mercato del lavoro che si presentava come una stazione ferroviaria. C'erano dei binari, se prendevo il binario 1, il binario 1 andava da una parte, se prendevo il treno sul binario 2 andava da un'altra parte. Erano binari fermi, fissi. Oggi non è più così. Oggi non è più così perché, come ho detto, le professioni cambiano, questi binari si intersecano con altri binari e il problema che noi abbiamo come professori oggi è che non dobbiamo più insegnare, ma dobbiamo insegnare a imparare. Il che vuol dire che voi dovete imparare a imparare. Il che vuol dire che non dovete imparare quella cosa, ma ti dovete munire di un metodo che vi consentirà un giorno a imparare anche altre cose e questo dovrete probabilmente farlo con quella tecnica che si chiama learning by doing, imparare facendolo, perché solo facendolo, applicandolo, riuscirete a capire perché non c'è nessuno che ve lo insegna o perché in quel momento non sarete più all'università o non sarete più nel luogo queste cose vi insegnano. È stato tradotto in italiano un libro che vi consiglio di leggere, ma è un librone, dovete prepararvi se volete leggerlo, che è intitolato Metaverso. È di un autore americano, Matthew Ball, è stato tradotto e pubblicato da Garzanti e vi introduce nel nuovo sviluppo di internet. Beh, insomma, chi se lo poteva immaginare? E come voi potete immaginare che cosa sarà Metaverso, cioè questo nuovo sviluppo di internet? Tanto per darvi un'idea del cambiamento nei tempi. Quando ero ministro, 1993-1994, andai in una missione ufficiale come ministro a Washington e venne ricevuto dal ministro corrispondente alla mia funzione, che era la funzione pubblica. E gli disse, ministro venga, le faccio vedere una novità assoluta. Mi portò davanti a un computer e mi disse, noi così possiamo collegarci con un sito informatico del suo paese. Dice, me ne indica uno, è un professore universitario, indica il Cineca, che come voi sapete è il sito che raccoglie tutti i dati dell'università e che sta in Veneto a Padova, insomma. E lui mi collegò. Cioè mi fece vedere come una novità importante da far vedere a un ospite straniero, una cosa che noi facciamo tutti i giorni adesso. Perché voi tutti i giorni, io tutti i giorni entro nel sito del New York University per fare le ricerche nella biblioteca del New York University dove ho insegnato e che quindi conosco e mi fa piacere di avere le pubblicazioni tramite appunto il collegamento che faccio. Quindi in 30 anni praticamente si è sviluppato qualcosa e dovete tenere conto che questo ha un'accelerazione ed è quindi importante avere un atteggiamento nei confronti del lavoro che comporta la capacità di imparare delle altre cose mentre si sta lavorando. L'ultima difficoltà è la scelta della sede. Se voi andate in Germania, le persone della vostra età, se scelgono l'università, non scelgono l'università della loro città. Perché la regola è quella che si esce dalla scuola superiore, si va all'università e contemporaneamente si esce dalla propria famiglia. Questo sta accadendo anche in Italia. Vi faccio un esempio. Qualche anno fa ricordo che andai a fare una lezione a Visconti, una dei licei romani, mi si avvicinò a una ragazza e mi disse ma secondo lei oggi a quale facoltà mi conviene iscrivermi per studiare giurisprudenza? E mi pare che l'università di Trento sia una università particolarmente innovativa. andò a Trento e si è laureata a Trento ed è molto contenta di aver fatto questa scelta, sta seguendo dei corsi innovativi che vengono fatti a Trento. Che cosa sto dicendo? Sto dicendo che non tutte le università oggi sono uguali l'una all'altra perché ci sono delle diversità di offerta formativa. Quindi bisogna tener conto anche del modo in cui gli insegnanti insegnano la stessa materia. Io ho insegnato diritto amministrativo, diritto pubblico, diritto costituzionale e così via ma oggi se dovessi dirvi che questa materia viene insegnata nello stesso modo in tutte le facoltà di giurisprudenza vi direi una cosa totalmente sbagliata perché ci sono almeno 4-5 modi diversi di insegnare e quando dico di insegnare non dico di esporlo ma modi diversi di avvicinarsi alla materia. C'è chi si avvicina con un approccio casistico per esempio, quindi non ti illustra la Costituzione, il diritto amministrativo ma ti illustra un caso che si è presentato il giorno prima al Consiglio di Stato e c'è un altro invece che illustra i sommi principi, il concetto di democrazia, il concetto di giuridizione, il principio della separazione dei poteri. Quindi questa è un'altra scelta che va fatta, le università non sono uguali l'una all'altra non solo per la qualità ovviamente dei professori e così via ma anche per l'approccio, per il modo in cui si avvicinano i professori alla materia. Vengo alla seconda parte che sarà molto breve e quindi tra breve finirò, che è il problema del lavoro. Perché noi lavoriamo? Perché gli uomini e le donne lavorano? Ci sono diversi motivi per cui lavoriamo. Primo si lavora per mangiare, secondo si lavora per diventare indipendenti e per lasciare il proprio nucleo familiare. Il terzo si lavora perché il lavoro è uno strumento di socializzazione. Se le persone non lavorassero, non avendo lo strumento di socializzazione che è la scuola, resterebbero sole. Quindi il lavoro è anche uno strumento di socializzazione. Naturalmente quello che noi chiamiamo malamente smart working non consente questa socializzazione e infatti presenta una serie di inconvenienti non solo lavorativi ma anche personali perché le persone rimangono sole. Trascorrere tutta la giornata da soli a casa davanti a un computer non è una cosa, è una cosa di cui ci si può rallegrare per un mese, due mesi, ma dal terzo mese in poi comincia a diventare un esercizio un po' solipsistico. Poi si lavora perché si impara. Il learning by doing è anche costituito da questo. Io posso sapere benissimo il diritto amministrativo ma non conoscere nulla della pratica del diritto amministrativo. Tre anni fa ho consigliato una ragazza e mi chiedeva un consiglio che si era laureata in giurisprudenza e ho detto ma faccia il concorso per l'ufficio del processo. L'ho incontrata dopo un anno e mi diceva ammirata, dice io sono al tribunale di Roma adesso e sto finalmente vedendo che cos'è una sentenza e come decide il giudice, qual è il processo, quali sono gli atti degli avvocati e come si comportano gli avvocati nei confronti dei giudici per vincere la causa nei confronti dell'altro avvocato e così via. Stava scoprendo un lato di una realtà di cui conosceva la teoria ma non conosceva assolutamente l'applicazione pratica e nello stesso tempo attraverso l'applicazione pratica stava scoprendo come bisognava cambiare la teoria, cioè che spesso la teoria non corrisponde esattamente all'applicazione pratica. Però c'è anche una cosa che nel corso del lavoro noi possiamo chiederci ma posso scegliere un lavoro che mi è utile a me ma è anche utile ad altri? Cioè il lavoro che io faccio è un lavoro che deve essere utile soltanto a me oppure è un lavoro che può essere utile anche ad altre persone. Vi leggo un articolo della Costituzione, una volta tanto facciamo un po' di esegesi, è l'articolo, chi di voi è stato negli istituti tecnici probabilmente questo articolo lo conosce bene, che ha studiato il diritto, è un articolo fondamentale della nostra Costituzione, l'articolo 4 della Costituzione. Di questo articolo tutti conoscono il primo comma che sarebbe la prima parte dell'articolo ma quasi tutti dimenticano il secondo comma. Il primo comma contiene il principio che viene chiamato del diritto al lavoro. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto e questo è chiarissimo. Cioè la Repubblica, voi sapete che la Costituzione quando dice la Repubblica non dice la Repubblica come contrapposto alla monarchia, quando la Costituzione dice la Repubblica vuol dire l'ordinamento complessivo dello Stato, quindi lo Stato, i comuni, le province, le regioni, gli enti pubblici riconoscono a tutti i cittadini il diritto al lavorare, però poiché il diritto al lavorare è come dire è un diritto rimane teorico se non ci sono le possibilità di lavorare. Il primo comma continua che la Repubblica promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto. Quindi questo diritto che è teorico diventa effettivo solamente grazie alla promozione che viene svolta da quelle che oggi si chiamano le politiche attive del lavoro. Ecco, se voi andate al Ministero del Lavoro e della Protezione Sociale si chiamano politiche attive del lavoro, cioè l'attività che svolge lo Stato per assicurare il lavoro. Poi c'è il secondo comma che è quello su cui volevo richiamare la vostra attenzione. Ogni cittadino ha il dovere, quindi c'era il diritto, adesso c'è una cosa diversa che è il dovere di svolgere secondo le proprie possibilità e la propria scelta, quindi è un dovere che si impone ma che poi comporta una scelta dell'interessato, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Tanto per darvi un'idea di quanto seriamente quelli che scrissero la Costituzione nel 1946-47 presero questo articolo, la formulazione originaria di quest'articolo aveva poi, prevedeva anche una sanzione e c'era scritto in quest'articolo che se non si svolgeva questa funzione nell'interesse della società si sarebbe per tutto l'esercizio dei diritti politici, cioè uno non avrebbe potuto votare. Poi si disse che questa era una sanzione troppo pesante, cioè se tu non dai un contributo esercitando questo dovere che è previsto dalla Costituzione, lo Stato non ti riconosce il diritto di partecipazione politica attiva. La partecipazione politica attiva fondamentalmente innanzitutto è il diritto di voto, cioè esercitare il proprio voto nella scelta dei cosiddetti propri rappresentanti. Ecco, voglio terminare facendovi un esempio di una cosa che mi è successa qualche giorno fa a proposito di questo diritto, diciamo, dovere. Questo è un diritto dovere, quindi diritto al lavoro e dovere di lavorare. Tanti pensionati dimenticano che c'è questo dovere di esercitare una funzione nell'interesse della società. Qualche giorno fa ero alla LUIS e dovevo entrare in aula per fare lezione, mi ferma una persona che poi è un dirigente della LUIS, amministrativo, che dice professore, lei non so può ricordare, io sono stato suo allievo, mi ha fatto l'esame, ho preso trentellode e così via. Le voglio parlare di un progetto che sto facendo con un gruppo di allievi di una scuola romana. Il progetto è il seguente, di sviluppare i borghi. Dunque, per darvi un'idea, vi ricorderò, in Italia siamo 59 milioni, come ho detto prima, ma più di un terzo della popolazione vive in sole 14 città metropolitane, va bene, più di un terzo della popolazione nelle 14 città metropolitane. I comuni italiani sono 7.901, ve ne sono 5.529 che hanno meno di 5.000 abitanti e ci sono 50 comuni che hanno un numero di abitanti che oscilla tra 31 e 91. Vi potete immaginare che cosa voglia dire la solitudine in questi posti che sono per lo più su delle colline, vicino delle montagne e così via. Bene, che cosa succede? E che in questi cosiddetti borghi vi sono delle opere d'arte, vi sono degli edifici del Cinquecento, dei municipi e cose di questo tipo che cadono a pezzi perché naturalmente in un paese in cui ci sono 31 abitanti, voi capite bene che l'imposizione fiscale non può essere tale da mantenere beni culturali di questo tipo e nello stesso tempo ci sono delle possibilità di trovare delle abitazioni a prezzo bassissimo perché naturalmente le case sono tutte quante abbandonate perché tutte le persone sono andate via. Voi potete immaginare anche quale sia la vita in posti di questo tipo per andare a vedere un film, probabilmente bisogna fare 100 chilometri per trovare un posto dove ci sia un cinematografo. l'idea di questo gruppo di persone è quella di rivitalizzare questi borghi. Hanno preparato addirittura un disegno di legge che è stato presentato in Parlamento grazie a questa iniziativa e di portare delle persone a vivere in questi borghi approfittando del fatto che in questo momento le esperienze lavorative possono essere fatte anche da remoto. In questo periodo io sto ancora facendo tante lezioni da remoto e tante persone lavorano anche ora da remoto con gli inconvenienti che dicevo prima. Questo consente naturalmente di fare, primo, di far vivere un po' meglio le persone, secondo, di rivitalizzare delle piccolissime comunità che stanno praticamente morendo, di portare delle persone a vivere in dei luoghi di cui si preoccuperanno. Se c'è un edificio del Quattrocento molto bello ci sarà qualcuno che è interessato a farlo ricostruire e probabilmente si ha da fare per far ricostruire e quindi servirà anche a uno scopo che diciamo è di rivitalizzazione di quelli che noi chiamiamo beni culturali. I beni culturali sono monumenti dipinti a redi su pellettili e così via che hanno un valore storico artistico e che sono riconosciuti nel nostro paese come beni culturali, tanto che abbiamo un ministero dei beni culturali che ora ha cambiato denominazione, si chiama più in generale Ministero della Cultura ma che si interessa fondamentalmente dei beni artistici, archeologici e così via di carattere culturale. Ecco questo è un esempio di un'attività che può essere svolta in un luogo diverso che migliora l'ambiente e mantiene curando un interesse pubblico un edificio, una costruzione di interesse pubblico e che quindi permette di combinare quella che è un interesse privato, lavorare, avere una retribuzione e nello stesso tempo consente di svolgere anche un'attività che è un interesse collettivo perché tutti quanti siamo interessati a mantenere, a conservare, si dice che tre quarti del patrimonio culturale, di beni culturali del mondo sta in Italia e quindi è come dire preservare questo patrimonio che fa parte del proprio paese combinando interesse privato e interesse collettivo. Ecco io forse ho sforato di cinque minuti o dieci minuti la mezz'ora che avevo promesso al Presidente Simoni e adesso sono pronto a sentire i suoi commenti e le sue domande naturalmente. Grazie, grazie mille professore. Io non posso fare tanti commenti alle cose che ha detto perché altrimenti rischierei di parlare altrettanto perché io penso che i tanti temi che ha trattato sono stati spero e immagino utili ai ragazzi che ci stanno ascoltando e mi è venuta voglia di dire una cosa perché lei prima ha fatto un quadro, come dire, una fotografia del momento piuttosto particolare e diverso rispetto al passato. Qual è il problema del fatto che è diverso rispetto al passato? Voi il passato non ce l'avete diciamo per voi questa è la realtà no? E il problema è naturalmente quello che dicevo all'inizio che non sempre le persone più grandi sono preparate perché erano cresciute in un luogo diverso. Però la verità è che il disallineamento tra quello che si studia e il tipo di lavoro esattamente che si va a fare che è una cosa piuttosto evidente anche aneddoticamente a mia generazione come tutte quelle precedenti, chi faceva giurisprudenza lo faceva più o meno l'avvocato, il giurista, chi faceva matematica faceva il matematico e questa cosa qui non è più vera e come non è più vero il fatto che appunto il lavoro che uno fa dura per sempre, io sono una versione un po' estrema però io più o meno ho cambiato, questo era vero anche forse una generazione fa perché il cambio di lavoro in media ha 4-5 anni altri colleghi meno ma insomma c'è sicuramente una variabilità molto maggiore rispetto alla generazione precedente e la generazione successiva questa variabilità è molto più diffusa. Però questa cosa qui ha un vantaggio la condizione in cui vi trovate voi a dover compiere una scelta come diceva il professor Cassese senza sapere cosa vuole andare a fare no? Perché se no non ha studiato diritto, non ha studiato relazioni internazionali, non ha studiato come fa a sapere se gli piacere o no quella materia è piuttosto impossibile no? E quindi giusto il consiglio di andare a vedere un po' più da vicino farsi qualche idea più precisa però è anche vero che a differenza di quello che accadeva prima non vi state sposando con quella disciplina e con quel mestiere all'infinito per sempre proprio perché più o meno qualsiasi tipo di professione di corso di studi sceglierete vi porterà una varietà di opzioni professionali molto più ampia di quanto accadeva prima la condizione di trovarsi a scegliere appunto una cosa sconosciuta è una cosa che capita è un po' un paradosso delle scelte più o meno a tutti diminuisce un po' con l'età perché uno alla fine le cose hai un po' di esperienza conosci più cose ma è tipico delle scelte perché se uno sapesse già cosa se uno sa già com'è la matriciana o la carbonara quando deve scegliere sa esattamente a cosa sta rinunciando per mangiare quello che sceglie di mangiare e quindi non è una vera scelta non è una cosa automatica o meglio quella è una vera scelta perché uno conosce le due opzioni quando invece uno non conosce ciò a cui sta andando incontro che capita spessissimo a tutti ogni volta che si parla di scelta importante c'è sempre un elemento di incertezza però questa volta siccome c'è la consapevolezza che il percorso che iniziate non è su un binario unico quella scelta nel valutare gli elementi di quella scelta possono assumere un ruolo anche maggiore le inclinazioni personali e quello che in inglese chiamano il gut feeling, l'istinto e questo io credo che sia una cosa positiva un elemento di liberazione ulteriore che la ricchezza della nostra società ha portato nelle persone in altre parole questa realtà molto più complessa di prima che spesso viene dipinta con toni piuttosto drammatici e catastrofici invece contiene in sé degli elementi di libertà e di possibilità che fino a pochi anni fa non c'erano questo non significa che sia più facile per voi di quanto fosse diciamo la vita delle 18 anni, 19 anni è difficile dappertutto in ogni latitudine, in ogni momento storico però l'aumento delle possibilità e l'aumento delle libertà è un fatto secondo me abbastanza incontrovertibile che esce fuori anche appunto dall'analisi che ci ha fatto il professor Cassini poco fa allora entrando un po' più dentro la discussione sul tema che ha dato il titolo a questo incontro ovvero la professione del servitore dello Stato di chi lavora per il Paese o per un'organizzazione internazionale quindi di cui il Paese è membro vorrei provare a approfondire uno dei temi che ha toccato il professor Cassesi sull'idea quella del secondo comma dell'articolo 4 della Costituzione o appunto più banalmente pensate a fare se forse volete fare qualcosa che aiuta anche agli altri che ha un impatto che va al di là del proprio piccolo orticello perché quando Apple fa il nuovo telefonino o Samsung ed esce fuori una funzione nuova che ci consente di fare una fotografia e togliendo una cosa delle cose incredibili che appunto incredibili dal punto di vista temporale cioè ormai poi ci diventa tutto subito familiare ma in realtà appunto era una cosa che nessuno avrebbe mai pensato giriamo tutti con una enciclobetia britannica in tasca ed è una cosa dal punto di vista storico assolutamente trasformativa ecco chi lavorava per fare quelle cose dentro Apple o dentro Google ha sicuramente fatto qualcosa per gli altri chi lavora per un'azienda privata che produce l'acqua minerale di cui noi italiani siamo molto fan diciamo è l'unico paese del mondo che ha un consumo così incredibile di acqua minerale in qualche modo fa qualcosa che aiuta tutti gli altri allora la mia impressione è che accanto alla differenza di percorsi professionali individuali la contemporaneità che è caratterizzata poi da questa grande apertura internazionale che prima non esiste fino a poco tempo fa non esisteva ha anche sfocato i confini tra lavori che hanno una funzione sociale piena come potrebbe essere quello del servizio pubblico del lavoro per lo Stato che una volta era anche il lavoro per le tante aziende di Stato che sono adesso molto poche e invece chi lavora per un'azienda privata questo perché non volevo annoiarvi con un discorso filosofico teorico perché proiettarsi in avanti chiedersi uno cosa vuole fare dopo è uno dei criteri molto importante nel quale orientarsi quindi uno deve cercare anche di immaginarsi in un contesto che non conosce però quel contesto lo si può immaginare anche con le parole di chi l'ha vissuto quel contesto a me è capitato di conoscere uomini che lavorano magari per istituzioni pubbliche non necessariamente concentrati per l'evoluzione di quello che stavano facendo invece persone che lavoravano per aziende private che avevano veramente molto a cuore l'effetto sociale di quello che stavano facendo di quello che fanno però sono dei contesti estremamente diversi con regole estremamente diverse e anche in media con vocazioni individuali molto diverse per chi poi sceglie quei percorsi e su questo mi faceva veramente piacere ricevere l'opinione del professor Cassese proverò a esprimerlo con un qualche esempio concreto l'Enel ha emesso delle obbligazioni recentemente stabilendo che i titolari delle obbligazioni cioè coloro che danno del danaro all'Enel per comprare un titolo obbligazionario dall'Enel avranno in restituzione la somma che hanno dato alla scadenza dell'obbligazione più una cifra fissa se l'Enel stesso non avrà raggiunto degli obiettivi di riduzione dell'inquinamento atmosferico entro i termini di vita dell'obbligazione ma pensateci un secondo che cosa implica tutto questo tutto questo implica che c'è un'impresa che si finanzia sul mercato e che stabilisce un obbligo aggiuntivo rispetto al mercato che la danneggia perché deve pagare di più al termine dell'obbligazione a chi ha comprato l'obbligazione se l'impresa stessa non ha rispettato un obbligo che non riguarda il profitto dell'impresa ma riguarda la tutela della collettività perché l'inquinamento atmosferico può produrre quel fenomeno che si chiama global warming di cui come dire noi stiamo testimoniando la crescita in tutti questi anni quindi quindi un interesse collettivo si inserisce in un interesse privato l'impresa che deve come dire operare per il profitto e per nell'interesse dei soci dell'impresa in questo caso soci che sono in larga misura lo stato italiano che quindi deve raggiungere un duplice obiettivo e tutto questo è scritto in documenti dell'ONU organizzazione ONU è organizzazione delle Nazioni Unite cioè quella cosa che ha sede a New York e che riunisce 193 stati del mondo cioè quasi tutti gli stati che esistono al mondo sono membri dell'ONU e l'ONU ha preso l'iniziativa di preparare un documento che si chiama Transformational Governance e che ha come obiettivo questo di rispettare i criteri che vengono chiamati oramai comunemente ISG nel mondo cioè chiedere alle imprese private nella misura in cui curano il loro personale interesse il loro interesse corporativo dell'impresa di rispettare alcuni standard che sono degli standard sovranazionali perché sono standard che sono fissati dal protocollo di Chioto e dall'accordo di Parigi per la tutela dell'ambiente e quindi mettere insieme interesse privato e interesse collettivo ecco questo secondo me è un interessante esempio di quello che ci diceva poco anzi il presidente Simoni perché consente di far convergere l'azione di un privato di un'impresa con un interesse di una collettività più ampia che non ha alcuna relazione con l'impresa perché tutelare l'ambiente vuol dire tutelare l'ambiente per tutti anche per chi non abbia l'energia elettrica che fornisce lei nella casa è difficile che sia così però comunque riguarda tutti quelli che abitano in quella zona o addirittura sul pianeta nella misura in cui la diminuzione dell'inquinamento produce un bene che è un bene collettivo per tutti non a caso gli standard e i parametri sono fissati a livello globale non sono fissati a livello nazionale perché se l'Italia o l'intera Europa abbattesse l'inquinamento in modo da diminuire ogni forma di inquinamento a zerarla non farebbe nulla perché essendo un problema globale richiede una soluzione globale non è possibile una soluzione nazionale di un problema che riguarda tutto il mondo e che la misura in cui continua l'inquinamento a provenire dall'Africa o dall'Asia l'azione dell'Unione Europea non servirebbe a nulla questo secondo me è un esempio del modo in cui a poco a poco interessi collettivi stanno penetrando per l'azione delle singole nazioni delle singole imprese o delle organizzazioni sovranazionali all'interno degli interessi privati e in modo che gli interessi privati permettano il raggiungimento anche di uno scopo sociale se questo vale per l'impresa può valere anche per le singole persone le quali possono nel corso della loro attività svolgere una funzione che risponda appunto a quei doveri di cui parlava l'articolo l'articolo 4 della costituzione secondo comma quando diceva faceva un riferimento a un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società grazie grazie mille e diciamo questo è anche un invito come dire a quando si è giovani spesso si è un po' rigidi si è un po' tosti a invece guardare il futuro e guardare il mondo con una qualche flessibilità e invece diminuire provare a smussare un po' la rigidità abbiamo parlato tanto oggi di cose che cambiano di cose nuove addirittura del modo in cui aziende private e beni collettivi possono essere possono convergere verso obiettivi che vengono considerati giusti quindi con un criterio che non è utilitaristico di più o meno di soldi o meno soldi ma con un criterio completamente astratto che ha a che fare con gli esseri umani inventato dagli esseri umani quindi le cose cambiano molto sono cambiate molto ci stupiscono i cambiamenti però ci sono anche delle cose che non cambiano affatto o che cambiano con grande fatica o che cambiano con grande lentezza che è una cosa diciamo con la quale io mi scontro abbastanza duramente ogni giorno da tanti anni da quando appunto ho iniziato a dirigere delle aziende pubbliche e a volere fare delle cose nuove in ambito pubblico c'è questo film c'è questo film di Bill Murray molto famoso nella mia generazione che si chiama Il giorno della marmotta che vi consiglio tantissimo di guardare perché è uno dei film più divertenti che ci sono in cui questo signore si sveglia ogni mattina ed è sempre lo stesso giorno ecco questo paese è iniziato a parlare di sburocratizzazione da quando io ricordo di aver letto i giornali quindi avevo avuto 15-16 anni e c'erano gli articoli probabilmente il professor Cassese anche se non posso dirlo perché con certezza lo ricordo che spiegavano che era necessario rendere il sistema burocratico italiano più leggibile più comprensibile le leggi andavano scritte in maniera tale che chiunque potesse non dico proprio chiunque ma insomma che una persona mediamente istruita potesse comprenderle che gli adempimenti debbano essere più lineari ecco nel corso di 25 anni io la cosa che mi sconvolse quando entrai la prima volta il primo posto il presidente e delle persone venivano a parlarmi con me usando una quantità di acronimi che io non ho mai sentito nominare nonostante insomma venivano dalla London School of Economics un po' di cose le avevo studiate che erano una quantità di acronimi che deve imparare un funzionario pubblico che lavora nella pubblica amministrazione e non c'è niente di più escludente degli acronimi gli acronimi sono proprio il linguaggio dell'interna corpus di qualsiasi azienda qualsiasi luogo ce li ha qualsiasi luogo ha un po' di burocrazia un po' di acronimi ce li avrete anche voi a scuola gli acronimi che io non conosco 100% qualcuno l'ha imparato da papà il piano dell'offerta il POF il piano dell'offerta formativa è uno di questi il POF di questa scuola è positivo io non sapevo di cosa stessero parlando naturalmente è bello il POF di questa scuola e quindi in parte è normale ma in parte è anche l'effetto di che cosa della lentezza della burocrazia ora la lentezza della burocrazia è anche una cosa che si vuole ottenere uno degli effetti del grosso inserimento dei privati in obiettivi come STG è la probabile accelerazione della risoluzione di questi problemi perché il mondo privato è estremamente più veloce e dinamico perché l'obiettivo non è quello della stabilità e dell'uguaglianza come nel servizio pubblico però il rischio molto grande è quello della dell'effetto contrario quindi della della stasi eccessiva in un momento invece in cui il cambiamento è molto necessario perché stanno cambiando molte cose attorno e quindi in realtà di fondo c'è una grande contraddizione ovvero quella di una struttura quelle pubbliche nate per offrire stabilità prospettive certe sicurezza alle persone che vivono in un paese che devono fare un certo numero di cose la quale sicurezza si trasforma molto spesso però nel giorno della marmotta in cui è sempre lo stesso giorno in cui la fila è sempre troppo lunga in cui siamo sempre tanti passi indietro rispetto a una funzione pubblica che ci possa aiutare in Italia questo ha un effetto molto grave molto serio è una delle cause la lentezza del nostro apparato pubblico è una delle cause più chiare della stagnazione economica dei scorsi vent'anni che è un po' un paradosso però diciamo questo è un tema per un altro seminario quindi quello che io vorrei sentire l'opinione su cui io vorrei sentire ancora il professor Cassese è proprio questa perché nella scelta di una facoltà e nella scelta anche di un percorso lavorativo quella del servizio pubblico è una delle più nobili di quelle con cui è più immediato è quasi ovvio il servizio che si fa agli altri mentre si sta anche lavorando per il proprio sostentamento per la propria soddisfazione personale e rischia però poi di essere visto spesso come un luogo nel quale le prospettive finiscono non è più il clam sandwich ma è se va bene il toast di una volta e quindi su questo anche vorrei qualche prospettiva grazie credo che per rispondere a questa domanda bisogna tener conto di due caratteristiche di quello che chiamiamo lo Stato la burocrazia primo è il più grande datore di lavoro che ci sia in un paese in tutti i paesi 3 milioni e 200 mila persone complessivamente nell'area pubblica nel nostro paese le dimensioni contano secondo è un apparato in cui le preesistenze le parola preesistenze viene adoperata dagli architetti e sono quelle strutture che esistono sul territorio da qualche tempo una vecchia chiesa un casale abbandonato e così via quelle sono preesistenze la quantità di preesistenze è molto alta viene stimato in circa 200 mila il numero delle norme esistenti nel nostro paese ora le dimensioni da un lato e la quantità di preesistenze fa sì che lo Stato italiano si presenti più o meno per adoperare una figura come un trazzo atlantico voi sapete che se il comandante di un trazzo atlantico stabilisce che il trazzo atlantico deve fermarsi deve accettare anche l'idea che si fermerà dopo qualcosa come 5 20 miglia marine cioè non si ferma immediatamente perché perché c'ha una velocità e non c'ha la possibilità di frenare e quindi continua a camminare per inerzia le dimensioni le preesistenze e la forza dell'inerzia producono un rallentamento nel quale si potrebbe dire ma perché non sono stati fatti dei tentativi i tentativi sono stati fatti sono stati fatti ma se voi semplificate 20 norme ma introducete 50 nuove complicazioni il saldo secondo voi quanto è è positivo o è negativo e se è positivo quanto a quale cifra corrisponde se avete semplificato 30 e introdurre certamente ci avrete 20 nuove atti normativi che debbano essere modificati quindi che debbano essere semplificati il problema nei confronti del quale noi che cerchiamo di superare è sempre questo a quale velocità può essere fatto il cambiamento in modo tale che il cambiamento riesca a ridurre a zero le complicazioni della burocrazia e che cosa dobbiamo fare quando questo richiede di fermare la macchina dello Stato in modo da aggiornarla perché voi capite bene che modificare il funzionamento dello Stato è come fare il lavoro del meccanico su un'automobile che cammina a 80 all'ora l'avete mai visto un meccanico che che mette le mani dentro al motore si fa male lui non è che cambia il motore che mette le mani dentro al motore mentre la macchina cammina a 80 all'ora quindi questa modificazione in corso d'opera comporta particolari accorgimenti per riuscire a modificare le strutture e vi faccio un esempio qualche giorno fa con l'attuale ministro delle infrastrutture e dei trasporti abbiamo fatto un incontro all'associazione alla conferenza nazionale dell'artigianato dove hanno fatto una ricerca su sul nuovo codice dei contratti della pubblica amministrazione e io ho affrontato il seguente problema qual è il tasso di innovazione che si può introdurre nella pubblica amministrazione che sia realisticamente realizzabile tenendo conto che se il Parlamento introduce un nuovo input una nuova norma i funzionari della pubblica amministrazione sono quelli vecchi e sono abituati alle vecchie norme e quindi prima di attuare quella nuova norma c'è un problema di cambiare le mentalità in modo di lavorare le pratiche le abitudini che si avevano all'interno della pubblica amministrazione perché per 20 anni avevano avuto 20 anni qualche volta 100 anni avevano avuto quelle norme allora qual è il tasso di innovazione che è utile introdurre e che non comporta un blocco dell'amministrazione che davanti a fatti nuovi si ferma e dice ma io come faccio ad applicare questo principio che vi posso dire qualche anno fa quando a un certo punto fu introdotto in Italia sull'esempio tedesco il principio di proporzionalità 2 milioni e 300 mila persone non avevano studiato il principio di proporzionalità all'università non sapevano che cosa fosse il principio di proporzionalità lo potevano immaginare quindi l'innovatore deve rendersi conto che si dirige ad un corpo amministrativo che è abituato alla tradizione e quindi si crea un conflitto potenziale tra innovazione e tradizione e chi innova deve come dire gestire bene il piede tra acceleratore e freno perché se non gestisce questo va a sbattere da cui la mia convinzione infatti che l'unico modo per innovare la pubblica amministrazione è fare entrare costantemente persone molto giovani con modi diversi che possono lentamente identificare i modi in cui migliorare un po' la volta a differenza un po' da certo queste non sono cose che si possono annunciare però forse sono cose che poi possono succedere io non so se abbiamo tempo per un'altra domanda perché vorrei fare l'ultima non vedo né pizzo né ci abbiamo siamo al limite allora vogliamo chiedere ragazzi altrimenti io c'ho un'ultima più breve però diciamo vediamo se ci sono se c'è qualcuno che ha qualcosa da chiedere prego lei si classifica come ragazzo studente sono state ripetenti allora tra un riferimento a quest'ultima affermazione è quella cioè di far entrare nella pubblica di amministrazione sempre diciamo persone con scherzi avanzati innovativi eccetera questo si riscontra con dei problemi normativi c'è una legge fornero che obbliga a stare nel posto del lavoro persone che cambia un'età anaclasica fino a 67 anni e un 67enne ma questo non si chiami il professor Cassetti non è ha delle abilunini delle tradizioni io insomma io quando andro all'agenzia di entrare faccio il commercialista a proposito di questa che di questo aspetto che accennato accennato il professor Cassetti delle professioni che non sono più separate che tendono ad essere congruenti io quando andrò dall'agenzia centrale mi trovo un 60enne 62enne 65enne che non mi capisce non c'è dubbio non c'è dubbio diciamo che diciamo le riflessioni che il professore ha esposto che anch'io espongo diciamo non sono relative all'attualità a minuta ma sono diciamo pensate anche per dare uno scenario ragazzi che devono scegliere cosa fare l'anno prossimo ragazzi avete qualche domanda vai sono sicuro che lì giù non la sentono quindi si venga qua o viene qui oppure se l'antidio inizia venire qui ok io avevo una domanda riguardante il discorso diciamo di introduzione che è stato fatto quindi diciamo da tutta una tutta la questione che c'è una richiesta comunque molto alta dei posti di lavoro ma allo stesso tempo c'è una diciamo una poca assunzione all'interno sempre di questi posti di lavoro e quindi dopo giustamente si è parlato della specializzazione del lavoro e che quindi c'è una richiesta diciamo maggiore di un diciamo di una conoscenza ben specifica all'interno di questo campo quindi la mia domanda era se come società ci portiamo comunque andando avanti abbiamo comunque la necessità di una specializzazione del lavoro come fanno le persone dei borghi le persone di borgata che comunque non hanno lo stesso livello di istruzione di magari anche semplicemente noi ragazzi che viviamo a Roma come fanno a essere integrati in una società che comunque predilige la specializzazione predilige coloro che magari hanno fatto un'università particolare perché giustamente ci sono delle università che sono specializzate in determinati corsi ma in generale basta pensare insomma alla LUIS che sono delle università comunque riconosciute per diciamo i ragazzi che sono usciti ma anche per i professori quindi la mia domanda era come facciamo noi magari i ragazzi di Roma Sud per esempio parlo per me a entrare a far parte di una società molto elitaria personalmente dal mio punto di vista cioè come faccio io a guadagnarmi lo studio di una cosiddetta università LUIS o di un'università magari che anche nel territorio italiano di fatto per me è esterna quindi magari fuori Roma però quando io di base non ho il supporto per affrontare questo tipo di studi cioè come potremmo noi andare avanti in una società del genere non so se è chiaro posso andare grazie prego il problema che le ha posto è un problema fondamentale che è quello che è toccato nel secondo comba dell'articolo 3 non dell'articolo 4 cioè dell'eguaglianza in senso sostanziale e cioè dell'eguaglianza dei punti di partenza no perché l'eguaglianza dei punti di partenza gli inglesi hanno una bella espressione dice il principio dell'eguaglianza in senso formale è quel principio in base al quale tutti quanti sono equalmente liberi di dormire sotto i ponti o all'hotel Ritz no perché poi ci sono le diseguaglianze di partenza ora nella società italiana ci sono dei correttivi a questo ci sono ormai diverse scuole di altissimo livello scuola normale superiore di Pisa la scuola superiore di Pavia la scuola di Napoli la scuola normale di Napoli e queste sono delle scuole che sono ad accesso libero per tutti e cioè basta prepararsi vincere un concorso una competizione quindi dove tutti sono alla pari ed essere ammessi in queste scuole dove va di bene non le offrono solamente un insegnamento le offrono anche una sede il vitto il pagamento delle tasse scolastiche dei libri e in molte di queste scuole anche pocket money cioè come dire i soldi per andare per andare al cinema insomma ecco strumenti di questo tipo oramai esistono esistono borse di studio e naturalmente il problema è di informarsi lo strumento dell'informazione voi dovreste averlo davanti diciamo perché è web insomma se uno sa navigare un pochino su web immagino che voi sappiate navigare quasi quanto me diciamo queste cose le trovate le indicazioni le trovate capito e se non le trovate trovate delle persone che possono fare come i pizzardoni come i vigili urbani che le indicano la strada per trovarla insomma quindi non partiamo da zero non sono sufficienti ma ci sono ecco quindi io darei una risposta ottimistica alla sua domanda i punti di partenza sono diversi su questo non c'è dubbio ma ci sono strumenti per assicurare che le persone non siano costretti a rimanere in quella posizione di diversità glielo leggo il secondo comma dell'articolo 3 è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitando di fatto limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica economica e sociale del paese è scritto con un linguaggio come dire un po' aulico la persona umana questo c'è l'influenza della cultura cattolica dietro a questo articolo c'è una grande importanza data dalla cultura cattolica anche dalla cultura socialista in realtà questa proposta viene proprio dal settore socialista della costituzione cioè dal partito socialista in parte appoggio del partito comunista quindi diciamo c'è un obbligo costituzionale da un lato e dall'altro lato quest'obbligo costituzionale vincola la Repubblica sempre in quel senso ampio a svolgere queste attività queste attività che servono a far superare i dislivelli dei luoghi di partenza chi sta nel grande centro chi ha maggiori mezzi chi proviene da una famiglia che ha più libri in casa chi proviene da una famiglia nella quale ci sono anche le possibilità di avere degli istruttori privati o delle ripetizioni da altri professori e cose di questo tipo ecco cerca di ristabilire un uguale livello tra le persone cercateli ecco non vi fermate ecco grazie io raccogliamo adesso raccogliamo adesso l'ultima l'ultimo giro di domande se ce n'è volevo solo aggiungere se posso aggiungere una chiosa a quanto magistralmente appena detto il professor Cassese a proposito delle borse di studio dell'articolo 3 eccetera eccetera che tra le varie accanto ai vari difetti di cui ci si lamenta sempre di questa società rispetto a 20-30 anni fa quando ci sono anche dei pregi non per il mio vizio di guardare il bicchiere mezzo pieno ma siamo anche una società molto più libera in cui l'economia è molto più libera è molto più aperta e io insegno alla Lewis e mi capita spesso di studenti che oltre a studiare trovano piccoli modi di lavorare dei modi di fare reddito usano tantissimo l'internet come nuova opportunità anche per autosostenersi negli anni io quando ho fatto dottorato all'Union School of Economics a Londra ho sempre lavorato per mantenermi facevo ricercatore e quindi l'idea come dire un po' tradizionale un po' forse polverosa e magari non tanto di moda dell'impegno individuale è una cosa diciamo che forse vale la pena ricordare prego facciamo l'ultima domanda se qualcuno ha altre veloci lo può dire diciamo tutte così poi il professore può fare una risposta di fare una risposta di fare una risposta che è una risposta e noi siamo diventati neanche e abbiamo anche il vostro dipendimento comindicinato noi ne vogliamo tanto con la descrizione di quella della scuola, secondo me non è mai presentato il nostro canale di intervento, il nostro conto di intervento, non abbiamo più la posizione di servizio dal nostro potere, ma più la riflessionale al cittadino che dobbiamo scolmare. Adesso siamo portati a una domanda mentre si aglava e vi salutavate e ci facevate riflettere. A noi domanda nella scuola pubblica, e quindi parliamo dell'apparato pubblico, è l'interesse collettivo, è l'aggiativo dei ragazzi. Poi, intanto che l'interesse collettivo viene a essere richiesto, promosso, incestato, chi ti guarda un momento di darlo, allora è ottima cosa, è bella cosa, guarda quanto è grande questa impresa. Quando dobbiamo proporre noi, facciamo la stessa cosa, perde attività, delle retta. Allora io vi chiedo, della vostra esperienza, dal vostro conoscere ambienti diversi, avete apprezzato anche l'Italia in tempi diversi rispetto ai nostri, perché potremmo essere collega, professore, signori, ma si accanotte, professore, siete, è una meraviglia che vi abbia portato, la mia ragazza, la vostra esperienza, conosce per rispettare le parole di Sessiona. Quale consiglio ci potete dare? E se sia la vostre comunità formante, perché noi siamo proprio una comunità formante, per aiutare questi ragazzi a sentire, ma veramente con la stessa fila, l'interesse collettivo, sì, dobbiamo costruire un po' un'unità da quali imprese di base, ma diciamocela, ma anche con la responsabilità di essere stato che è stato. Allora, io prima citavo il fatto che la impresa privata ha una capacità di velocità, di adattamento, di soluzioni ai problemi, superiore allo Stato e agli enti pubblici, perché lo scopo per cui queste due diverse invenzioni dell'essere umano esiste è molto diverso, però io ho anche scelto di spendere tutta la mia carriera e la mia vita nell'insegnamento universitario, nello studio universitario e poi nella gestione di aziende pubbliche, quindi diciamo questa cosa non vorrei che sembrasse schizofrenica. Il punto che come si può trasmettere non lo so, perché se lo sapessi fare in insegnante non so, fare in insegnante credo che sia uno dei mestieri più difficili che esistono, forse sto imparando adesso un po', diciamo, ho la sensazione di essere un po' migliorato nel mio insegnamento universitario, quindi non so come si può trasmettere. Però un dato di fatto che a me sembra assolutamente evidente, che emerge molto anche dal libro che citava in apertura il professor Cassese di Moretti sulla geografia del lavoro, e cioè che se è vero che lo sviluppo economico è una cosa resa possibile soltanto dell'invenzione dell'impresa privata, come raccontava anche Obama qualche anno fa, la cosa che è certa è che senza il ruolo dello Stato nessuna impresa privata è possibile. Il valore aggiunto che una buona impresa pubblica, tra virgolette impresa, che è un buon ente pubblico, come una scuola, un'università, un centro di ricerca, è in grado di fornire alla crescita economica, è da un lato non misurabile perché non abbiamo gli strumenti per farlo, cioè non esistono gli strumenti per misurare quanto valore aggiunto in un paese porta un centro di ricerca. Ma è assolutamente essenziale, come il lievito nel pane. Senza il lievito il pane rimane piatto. Senza enzima la reazione chimica non avviene. Senza Stato che funziona non avviene neanche la crescita economica, che non è solo soldi, ma è crescita culturale, crescita sociale, cambiamenti di abitudini. E questa cosa qua si vede tantissimo, specialmente in Italia, in cui una delle principali ragioni della fatica economica degli ultimi vent'anni e proprio la fatica dello Stato, il fatto che lo Stato abbia un'età media troppo alta, che è stato poco innovato, che ci sono stati per tante ragioni degli ultimi vent'anni un impoverimento delle strutture amministrative pubbliche. Quindi io non so come raccontarlo, ma io l'ho visto, ed è la ragione fondamentale per la quale io personalmente continuo a svegliarmi ogni mattina e occuparmi di amministrare cose pubbliche, che appunto hanno un effetto, che alcuni economisti chiamano l'effetto leva, assolutamente imparagonabile a qualunque singola l'azienda privata. Ed era solo una testimonianza, lascio la parola al professor Cassese, perché poi anche concluda questo nostro incontro. Istat è una sigla che sta per Istituto Nazionale di Statistica, ed è l'istituto pubblico che produce la fotografia dell'Italia e degli italiani. Due o tre anni fa l'Istat ha fatto un'indagine sulla partecipazione politica attiva e di quella passiva degli italiani. Partecipazione politica attiva vuol dire essere iscritti a un partito oppure essere andati a dei comizi elettorali. Partecipazione politica passiva vuol dire leggere il giornale e seguire la televisione per sapere che cosa succede al governo. Il risultato di questa statistica e di questa indagine è il seguente, che la partecipazione politica attiva riguarda l'8% degli italiani con più di 14 anni. La partecipazione politica passiva riguarda il 70% degli italiani con più di 14 anni. Che cosa secondo voi spiega questo divario tra 8 e 70? Il fatto che noi non partecipiamo singolarmente, tutti quelli con più di 14 anni, quindi persone più giovani di voi, vuol dire che noi non partecipiamo collettivamente a iniziative che riguardano la polis, la collettività, la comunità. E questo secondo me è la risposta che le darei professoressa. Il problema è che se non siamo noi soggetti attivi, come volete che ci sia qualcuno che prenda l'iniziativa? L'iniziativa deve partire dai cittadini, ma se c'è questo divario, l'8% contro il 70%, vuol dire che c'è sempre un interesse, ma questo interesse non diventa da passivo attivo, subisce ma non agisce attivamente. E questa è la chiave per capire l'attuale situazione. Se fosse attiva quella parte, per farvi solo un esempio per riprendere il concetto che esprimeva il Presidente Simoni, se fosse attiva, per esempio, introdurrebbe in Italia quello che gli inglesi chiamano fast stream nella pubblica amministrazione. Che cosa intendono per fast stream gli inglesi? Che c'è nella pubblica amministrazione? Si accede e si va avanti per anzianità, man mano che passa il tempo si accumulano esperienze e così via. Ma che poi c'è un percorso rapido che riguarda poche persone, che li prende giovani e li porta da giovani al vertice della pubblica amministrazione. In questo modo voi avete l'insieme di persone che hanno più età, esperienze, però poi avete anche un'enzima, per riprendere il suo esempio, un'enzima che avviene e che porta cultura nuova, nuovi problemi, nuove soluzioni e così via. Una cosa di questo tipo può venire, non ve l'aspettate che venga dalle classi dirigenti del nostro Paese, aspettate che venga da una maggiore partecipazione di tutti i cittadini alla vita collettiva. Mi rendo conto che è difficile fare questo, realizzarlo nell'attuale situazione, ma questo mi comporterebbe una spiegazione troppo lunga, però questa è l'unica chiave, cioè diventare cittadini attivi della propria società. Grazie, grazie a tutti, grazie ancora al professor Cassese, grazie agli archivi centrali dello Stato e buccalupo a tutti.